Un ispettore della Guardia di Finanza, nonostante fosse fuori servizio, si è precipitato in azione, sventando una rapina a mano armata in un supermercato di Afragola in provincia di Napoli. Senza esitazione, il finanziere ha iniziato una connuttazione disarmando il malvivente, che minacciava la cassiera con una pistola e il volto coperto da un passamontagna. Il criminale è riuscito a fuggire con l'aiuto di un complice su uno scooter di grossa cilindrata, nonostante il finanziere abbia continuato ad inseguirlo a piedi, per il traffico cittadino. Una pattuglia delle fiamme gialle è intervenuta sul posto, coordinandosi con la procura di Napoli Nord e altre forze dell'ordine, per identificare i responsabili della tentata rapina.